Nessuno ha soldi, per cui adesso un'azienda che è in crisi, le organizzazioni arrivano e entrano con una strategia definibile soft. Noi non compriamo tutto, noi ti diamo cash in cambio di azioni, quindi pompe funebri investono in pompe funebri, lavanderie d'ospedale, cioè che lavano proprio le lenzuole, i camici, investono da sempre, società di pulizie investono da sempre, distribuzione igiene di alimentari, pompe di benzina, sono il portfolio almeno da dieci anni delle organizzazioni mafiosi. Perché l'obiettivo loro spesso non è neanche i soldi, è pulire i soldi. L'appalto lo prendi perché tu hai già 50 milioni di euro, ma li devi, per farli diventare legali, li devi far rientrare e li fa rientrare con un lavoro pubblico, spesso è così. L'economia pagana in ginocchio significa alla merce delle organizzazioni criminali. Detto questo, la situazione criminale mondiale, io credo che il Messico, il Brasile, stiano vivendo situazioni in tutto il Centro America, drammatiche per il coronavirus e la presenza criminale in Gra, anche l'India, Mumbai, i cartelli di Mumbai sono molto molto potenti. Le mafie, ecco, in questo momento stanno conquistando consenso. Un'economia debole è un'economia in preda alla mafia.